Maurizio Castellani, il sindaco e presidente dell'Unione Comunità Montana Montebaldo. Questa sera, insieme al Lago di Garda Veneto, presentate questa iniziativa, un'iniziativa che vuol promuovere non solo il Lago di Garda, ma soprattutto l'interesse per le bike, per le biciclette. Quindi non solo il turismo lacuale, ma anche il ciclo turismo, le montagne, le colline. La mia intenzione come presidente dell'Unione Montana è appunto portare avanti un progetto ambizioso, un progetto di unione. L'unione appunto è raccogliere attorno tanti comuni, nove comuni che fanno parte dell'unione, ma anche altri comuni limitrofi, che hanno degli interessi comuni. Io sono un sostenitore che i comuni, i confini di comuni, ormai sono stretti. Per fare certe iniziative bisogna operare in uno spazio molto più ampio, soprattutto uno spazio chiamato in gergo ambito omogeneo, lo chiamiamo. E quindi abbiamo intrapreso questa iniziativa, assieme al Consorzio Lago Veneto, portata avanti, condivisa con un protocollo di intesa dell'Unione Montana, ancora lo scorso anno. Grazie anche a questa collaborazione con Garba e il Mountain Bike, questa sera ci troviamo qua per portare avanti un progetto molto bello. Abbiamo fatto una cosa molto interessante recentemente, tramite il GAL, che è il gruppo di azione locale Ballo Lessinia, che è un gruppo locale che è finanziato, che ha dei finanziamenti della Regione Veneto. Abbiamo approvato un progetto proprio con tutti questi comuni, ogni comune fa il proprio progetto, il progetto, il coordinatore dell'Unione Montana, che porterà senz'altro, mi auguro che lo approvino a questo progetto, dei fondi per collegare tutte queste zone in maniera omogenea, con una cartellonistica omogenea e soprattutto una promozione molto importante nell'entroterra gardesano, perché ormai è un tutt'uno, lago, collina e montagna devono lavorare assieme, devono lavorare in un contesto univoco perché il turista, io dico il visitatore, soprattutto sia interno che esterno, non ha confini. Lui vuole arrivare, va da un luogo, va nell'altro, ci deve essere una continuità, una circolarità di movimento in tutti questi territori. Il Consorzio Lago di Garda Veneto, amico del mountain bike, è il tema della serata, ma soprattutto è l'occasione per presentare questa iniziativa che interesserà gran parte della sponda veneta del Lago di Garda, Paolo Arteglio che è il Presidente del Lago di Garda Unito, questa sera questo incontro, questa presentazione. Questa è una realtà importantissima, prima di tutto per noi che promuoviamo il Lago di Garda, il mountain bike, lo vediamo dalle nostre richieste che abbiamo sui nostri siti, è una delle richieste principali degli ospiti e quindi quando diciamo ospiti diciamo ovviamente sia l'ospite italiano ma anche tutti gli ospiti che ci arrivano, specialmente dalla Germania, dall'Austria e da ovviamente i paesi anche scandinai che sono molto, chiamiamoli, in questo sport sono molto numerosi. Quello che facciamo questa sera, stiamo presentando questo piano perché oltre ad avere i percorsi bellissimi, il Lago di Garda della Sponda Veronese ha quasi 350-400 km di piste, quello che noi vogliamo, che anche queste piste... Qualcune anche difficili? Qualcune anche difficili, quello che noi vorremmo presentare ai nostri ospiti e ai nostri anche cittadini, perché ovviamente questo è un piano turistico quindi per i nostri ospiti ma di questa situazione ne usufruiscono anche tutti i nostri cittadini, vorremmo che tutte queste piste fossero tenute in perfetta, chiamiamola forma e quindi da stasera parte questa collaborazione con questa associazione Garba che ci garantirà la manutenzione e la messa, tra virgolette, in sicurezza di tutti questi percorsi per poterli ovviamente promuovere con tutta tranquillità per i nostri ospiti. Dal lago alla montagna? Dal lago alla montagna, ha detto una cosa veramente... perché proprio dal lago alla montagna, perché come diceva anche lei abbiamo i percorsi bellissimi nelle nostre campagne qua del Basso Lago, abbiamo delle situazioni stupende nell'alto lago e poi abbiamo la montagna, abbiamo il baldo e le cose che ha delle situazioni di piste incredibili che sono con dei panorama a mozzafiato, bisogna solo avere il fisico di poter pedalare.